che orchestra, ma che orchestra, che fantastici, sono in 3, 4, sono in 5, 4 e mezzo, sembrano che sono 9, hai visto quest'anno una grandissima edizione, eccezionali, professionisti veramente in gamba, noi saremo qui, siamo contenti di essere qui con te, Daphne, che abbiamo scoperto che sei bravissima, alla quindicesima edizione di Mille Voci ci sarebbero anche noi, i Cugini di Campagna, una grande edizione, parte che è grandissima, però a noi l'agurio è che è già arrivata a seconda, però questa nostra accenno, e questa è arrivata prima, nel 75 dove faceva? Quello che non ha capito lei, amore, 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 amore mio, un'altra donna ha preso il posto tuo, amore, 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 amore mio. Seguitemi le voci su questa emittente, con i Cugini di Campagna, ciao! Ciao, ciao! Ciao! Ciao!